In questo periodo la DeFi va molto di moda, direi che ce ne siamo accorti perché non si parla praticamente d'altro. Tuttavia si tende sempre a parlare solo di Compound, solo di quei pochi progetti che stanno vivendo un po' l'hype del momento e non di altri che magari sono meno conosciuti, devono ancora sbarcare sul mercato e che hanno quindi un maggiore potenziale. Nel video di oggi vi voglio parlare di quattro progetti di DeFi che io personalmente sto seguendo e che reputo i più interessanti anche sul medio-lungo periodo. Sono delle novità, sono meno conosciuti e se ne parla meno ed è proprio per questo che voglio portarli alla vostra attenzione. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Di nuovo ci troviamo a parlare di DeFi ma in questo periodo ne vale la pena proprio perché vale la pena imparare a conoscere quei progetti sottovalutati e vale la pena anche capire concretamente qual è il potenziale della DeFi in questo mare in cui stanno iniziando a nascere a destra e a sinistra progetti di qualsiasi tipo che solo perché hanno dentro la parola chiave DeFi rischiano di venire pompati ai massimi. Quindi ci troviamo nel classico panorama da bolla e in un panorama di questo tipo è importantissimo distinguere le gemme quindi quei progetti utili, interessanti e concreti da quelli che invece non hanno nessuna ragione d'essere. Il motivo per cui oggi vi presento questi quattro progetti è principalmente a scopo fondamentale quindi a farvi capire quali possono essere delle applicazioni concrete del panorama DeFi. Non mi soffermo sui prezzi dei token e sull'investimento nei token anche se vi dico i loro token a cosa servono alcuni sono già sul mercato, alcuni ci stanno per arrivare quindi potrebbero anche essere situazioni interessanti ma non mi soffermo sul prezzo proprio perché viviamo in un periodo in cui la DeFi è a forte rischio bolla quindi sapete che per il mio stile di investimento barra trading preferisco evitare queste situazioni. In ogni caso vale la pena sicuramente aggiungere questi quattro progetti alla watchlist e adesso li andiamo a vedere. Ma prima vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti cortesemente lasciatemi un like anche a questo video che mi gasate ai massimi e a voi non costa nulla. Iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre sul pezzo su tutte le novità del mondo cripto e le analisi di mercato e cliccate anche la campanellina per ricevere le notifiche. E infine seguitemi anche sugli altri canali social di cui trovate i link in descrizione. Ora facciamo questo tuffo nella DeFi meno conosciuta ma più promettente. Seguitemi! Il primo progetto di cui vi parlo oggi si chiama Balancer. Balancer è una piattaforma che porta il concetto di pool di liquidità a un nuovo livello. Un pool di liquidità che cos'è? L'ho descritto bene nel dettaglio nei miei ultimi video sulla DeFi se vi va di andarlo ad approfondire ma in maniera molto semplice è un insieme di diversi asset token tokenizzati chiaramente sulla blockchain Ethereum perché tutta la DeFi al momento gira sulla blockchain Ethereum che permettono a chi vuole fare uno scambio tra uno e l'altro di questi asset di farlo in maniera decentralizzata. Vi faccio un esempio concreto. Supponete di avere un pool di liquidità contenente Ether e DAI chiunque voglia andare a fare un trade decentralizzato tra Ether e DAI che viene definito swap utilizzando il vostro pool di liquidità lo può fare. Il prezzo dei due token viene o importato dall'esterno tramite un oracolo oppure mantenuto costante tramite dei meccanismi di ribilanciamento interni che permettono di mantenere una proporzione tra Ether e DAI che sia pari alla proporzione tra il prezzo dei due asset. Questo è quello che succede ad esempio in Uniswap che è il pool di liquidità più famoso nonché il DEX attualmente più utilizzato. Balancer permette a chiunque per l'appunto di creare dei pool di liquidità. Come vedete dalla sezione pool management ognuno può creare un pool dove decide tutto dove decide quali asset metterci dentro qua ad esempio abbiamo un pool che contiene maker e Ether, balancer e Ether e così via che percentuale quindi 50-50, 75-25 e così via e soprattutto che fee applicare ad ogni swap perché chiaramente chi mette a disposizione il suo pool di liquidità lo fa per permettere ai trader di scambiare un token nell'altro ce ne possono anche essere più di uno e vi ricordo e lui riceve la fee quindi quello che ci guadagna è ottenere la fee quello che ci guadagna non è solo questo volendo perché chi va a creare un pool condiviso o meno perché si può fare sia pubblico che privato la differenza è che se uno crea un pool pubblico anch'io se voglio posso andare a mettere la mia liquidità lì dentro e partecipare a questo come se fosse portafoglio chiamiamolo questo pool e acquisirne una quota e quindi anche guadagnare una quota delle fee complessive del pool se invece uno crea un pool privato soltanto lui ci può agire andando a immettere nuova liquidità o rimuovere liquidità esistente l'altro vantaggio che offre la creazione di un pool è di avere una sorta di portafoglio gestito perché se ad esempio io ho un pool 50% USDC e 50% Ether questo è il Wrapped Ether ma immaginatevi che è Ether io ho un portafoglio automaticamente gestito che si bilancia da solo quindi se il prezzo di Ether sale e la percentuale di Ether aumenta automaticamente lui me li vende per USDC per mantenermelo costante quindi per chi vuole implementare strategie di asset allocation che si ribilancia in maniera periodica può essere veramente una soluzione interessante soprattutto perché unito al fatto dell'autoribilanciamento ci guadagno anche le fee di swap tra l'altro lo swap avviene in due modi perché un'altra domanda che uno si può fare è ma chi mi assicura che quando il prezzo di Ether sale qualcuno va a ribilanciarmi il portafoglio ecco oltre ai trader che vanno a fare gli swap in prima persona ci sono degli smart contract che automaticamente ribilanciano i vari pool laddove si creano appunto delle disproporzioni e per questo nasce il termine smart pools che viene scritto da qualche parte non mi ricordo dove proprio perché sono gestiti da degli smart contracts che vanno sempre a controllare i prezzi e vanno a verificare che le proporzioni rimangano inalterate infine l'interfaccia di chi vuole fare il trade di chi vuole fare lo swap è questa è semplicissima io vado a scegliere i due token da scambiare esempio Ether e BAL che è il token di balancer mi viene automaticamente calcolato il rapporto tra l'uno e l'altro utilizzando i pool che per me sono più vantaggiosi in due termini con maggior liquidità e quindi slippage più basso ovvero la differenza tra il prezzo teorico e il prezzo effettivo perché se c'è poca liquidità e vado a vendere una grossa quantità di token il prezzo cala si chiama slippage questo fenomeno e soprattutto le fees minimizzate come vedete in questo esempio di trade verrebbe pescato un po' da 4 anzi di più perché qua c'è others da più pool in modo da ottimizzarne appunto le caratteristiche per il mio trade risultando in uno slippage minimo e in fee anch'esse minime e quindi questo rende ottimo questo protocollo sia per chi vuole fare il trade che per chi vuole mettere a disposizione la liquidità perché si va a ottimizzare entrambi i lati insomma dell'approccio inoltre andando a pensare a una progressiva integrazione sempre maggiore con i vari protocolli di DeFi sicuramente un ecosistema come questo ne può solo beneficiare sia appunto chi mette a disposizione la liquidità per ottenere poi una percentuale sulle fees pagate e sia chi vuole fare il trade perché avrà a disposizione dei pool con delle fee e della liquidità estremamente più competitivi il token BAL come un po' succede sempre nei token relativi alla DeFi è un token un governance token quindi fondamentalmente chi lo detiene ha un diritto di voto proporzionale e di decisione che può anche proporre decisioni che poi è proporzionale alla quantità di token che holda molto simile a quanto accade in comp il secondo progetto si chiama REN che è un progetto molto più semplice se vogliamo dal punto di vista concettuale di Balancer che forse era quello più complesso tra quelli che vi mostro oggi e ve l'ho mostrato per primo REN è un ponte immaginatevi tra le diverse blockchain non a caso l'applicazione si chiama RENBridge RENBridge permette a chiunque di andare a tokenizzare su REN un asset tra Bitcoin Zcash e Bitcoin Cash per ora ovviamente nei progetti futuri c'è di includerne altri a che cosa serve direte? ovviamente per permetterci di andare a utilizzare Bitcoin per esempio sulla blockchain Ethereum perché quello che si ottiene andando a tokenizzare Bitcoin è il cosiddetto RENBTC che è ad esempio accettato sulla piattaforma Curve quindi poi posso utilizzarlo lì per metterlo in prestito ad altri o per collateralizzarlo e chiedere un prestito oppure per fare uno swap quindi per scambiarlo con un altro token e quindi fondamentalmente mi permette anche se non sono sui ARC20 ai token che non sono sui ARC20 di far parte dell'ecosistema e del mondo della DeFi che è sempre più orientato verso il crosschain i due passaggi da fare che sono uno all'inverso dell'altro sono il mining che significa che io mando Bitcoin a un address e lui mi crea tramite uno smart contract un RENBTC vincolandomi lì il mio BTC quindi c'è quello che si chiama supply peg ovvero un Bitcoin uguale un RENBTC non c'è l'ancoraggio al prezzo ma appunto alla supply alla quantità vincolata release è esattamente l'opposto ovvero io mando il mio RENBTC allo smart contract inserisco il mio Bitcoin address e ricevo il mio Bitcoin indietro come viene fatto questo mining e releasing? tramite una macchina virtuale decentralizzata che si chiama RENVM e come viene replicata come viene mantenuta questa macchina virtuale allora effettivamente è una sorta di immaginatevi un cervello semplifichiamo molto le cose che fa tutte le operazioni necessarie quindi l'occupazione di spazio su disco la CPU tutto quello che deve fare lo fa replicato su diversi punti in modo da essere appunto decentralizzato chiunque può decidere di far parte di questo network andando a creare quello che si chiama Darknode che è una sorta di masternode se vogliamo fare una gigantesca approssimazione che si può mantenere avendo vincolati 100.000 REN quindi chi vuole fare una sorta di staking che perché poi quello è può creare un Darknode andare a far girare questo softwareino su una macchina che ovviamente deve essere sempre online e soprattutto deve detenere 100.000 REN in questo modo otterrà una percentuale sulle fees che vengono applicate al mining e al releasing quindi ad ogni operazione che viene fatta si guadagna una fee anche questo è un protocollo molto interessante perché è stato subito integrato in Curve e in tutti quegli ecosistemi più utilizzati della DeFi e sicuramente il futuro va in una direzione sempre più cross-chain e quindi con sempre più integrazioni in questo senso la valutazione quindi ed il prezzo conseguentemente del token REN sono strettamente legati alla quantità di Darknode esistenti sulla rete e alla domanda di questi Darknode proprio perché i token REN sono richiesti da vincolare per far girare un Darknode e quindi sono fuori dal mercato più c'è domanda e meno liquidità c'è in giro sul mercato in vendita chiaramente a loro volta il numero di Darknode richiesti la domanda per i Darknode sarà proporzionale ai volumi di mining e releasing che vengono effettuati sul protocollo REN e questo a sua volta è proporzionale all'integrazione di questo protocollo con tutte le altre piattaforme di DeFi il terzo progetto di cui vi parlo è anche forse il mio preferito e si chiama Reserve Reserve ha come obiettivo quello di creare una stablecoin definitiva ed è un obiettivo diviso in tre fasi la prima fase è quella di creare una stablecoin che è già in essere quindi ci troviamo qui una stablecoin il cui valore è legato ad un paniere di altre stablecoins quindi prendete le stablecoins esistenti e ci create sopra le utilizziamo come collaterale per crearci sopra questa nuova stablecoin che avrà come vantaggio che se una delle stablecoins perde il PEG non c'è il rischio appunto di collasso perché si ribilancia il sottostante in modo da mantenerne comunque il valore legato ad un dollaro la seconda fase farà uno step successivo quindi il paniere di collaterali sotto alla stablecoin Reserve non sarà più di sole stablecoins ma sarà di asset di diversi token quindi avremo sempre il valore legato ad un dollaro ma non solo a causa delle stablecoins e quindi si amplia il paniere di collaterali migliorando così l'efficacia e la decentralizzazione del protocollo Reserve l'ultima fase che è quella più ambiziosa ma altrettanto più interessante è quella che si pone come obiettivo di liberarsi dalla schiavitù del dollaro perché una cosa che non piace al team di Reserve è che la loro stablecoin valga come il dollaro e quindi in caso di inflazione perda potere d'acquisto questa è una cosa che ovviamente nel mondo crypto laddove si cerca un'alternativa alle valute correnti alle valute fiat non vogliamo che accada noi vogliamo un qualcosa di appunto alternativo e indipendente quindi la independent phase prende il nome proprio da lì e si pone come obiettivo di avere una riserva di valore effettiva che abbia tutte le caratteristiche per esserla ovvero la stabilità quindi non volatile il cui valore rimane identico e il cui potere d'acquisto rimane identico quindi si utilizzerà anche lì un paniere di asset con lo scopo di stabilizzarne il potere d'acquisto nel tempo questo è un obiettivo molto molto ambizioso e la renderebbe indipendente dal dollaro se così fosse si potrebbe veramente creare un nuovo standard di riserva di valore e di stablecoin che potrebbe diventare davvero la stablecoin definitiva e a farci fare quello step che ci separa una volta per tutte dal mondo della finanza tradizionale e dalla valuta fiat in particolare dal dollaro la stablecoin sarà chiamata RSV e sarà quella che naviga attraverso queste tre fasi quindi inizialmente avrà il valore di un dollaro e poi mira a separarsi da esso e ci sarà anche il reserve rights token che è il token di governance quindi di nuovo con la stessa logica degli altri token DeFi per andare a modificare a far evolvere nel tempo su base democratica la piattaforma alle nuove necessità l'ultimo e direte finalmente progetto che vi mostro oggi ad alto potenziale e in novità nel mondo DeFi si chiama Mstable Mstable è un protocollo una piattaforma finalizzata alla creazione di asset il cui valore è stabile rispetto a qualcos'altro l'esempio più lampante è la stablecoin e infatti il primo prodotto che hanno creato è proprio una stablecoin concentriamoci inizialmente su quello per capire come funziona la stablecoin si chiama MUSD ed è collateralizzata da 4 differenti stablecoins questo per che scopo? per ridurne la volatilità e i rischi in particolare il famoso rischio di perdita del PEG e quindi nell'ecosistema DeFi dove tutto è un po' interconnesso è utile avere una stablecoin già diversificata in modo appunto da ridurre questi possibili imprevisti come si fa a creare MUSD? tramite il processo di mining da questa applicazione io vado a inviare una qualunque delle 4 stablecoin allo smart contract e mi dà in cambio una quantità pari di MUSD a meno di una piccola fee di mining il redeem è il procedimento opposto io vado a dare, a bruciare diciamo i miei MUSD e ricevo le stablecoins in cambio con gli MUSD oltre che utilizzarli eventualmente su terze piattaforme che non siano M-Stable posso metterli a disposizione di M-Stable per chi vuole fare gli swap per chi vuole fare gli scambi proprio perché M-Stable include un pool di liquidità dei suoi asset stabili dedicato ovviamente agli utilizzatori della piattaforma in questo modo io posso mettere a disposizione per l'appunto i miei MUSD a questo pool e ricevere un tasso di interesse che è variabile ovviamente in base alla domanda e all'offerta cioè più MUSD ci sono a disposizione e meno domanda c'è e più il tasso di interesse si abbassa e viceversa però attualmente è un tasso di interesse interessante scusatemi il gioco di parole ovviamente come vedete è molto volatile molto variabile anche perché la piattaforma è agli inizi però per essere agli inizi abbiamo già un milione di MUSD creati e la metà sono già in savings quindi messi a disposizione alla piattaforma stessa le prospettive future di questa piattaforma sono la creazione di altri cosiddetti M-Assets tra cui M-Gold che è appunto un asset stabile legato all'oro magari che diversifica che ne so immagino io tra Xaut e Pax Gold tutti i token legati all'oro e altri M-Assets legati alle valute nonché uno legato a Bitcoin questa idea della diversificazione è interessante proprio perché appunto nel mondo della DeFi serve un qualcosa del genere che minimizzi i rischi il rischio ovviamente in questo caso se lo prende M-Stable in parte perché detiene lui il paniere dei collaterali il cui valore potrebbe nel peggiore dei casi variare e qua nasce il senso del token MTA che è in parte un governance token sarà un token che verrà emesso penso nelle prossime settimane inizierà con un modello simile a Compound agli utilizzatori della piattaforma quindi a chi farà il mining di M-USD a chi lo metterà nel save eccetera eccetera e lo scopo sarà duplice in parte un governance token quindi per prendere le decisioni e evolvere la piattaforma e in parte per addossarsi il rischio della piattaforma stessa quindi se ci fosse una liquidazione o la perdita di PEG di un M-Stable come si chiama allora si utilizzerebbero i token in circolazione i token MTA per andare a riacquistare e insomma a recuperare il PEG quindi è una sorta di socialized loss una perdita socializzata quindi il detentore del token MTA si prenderà una parte può metterlo in staking e prendere una parte delle fees della piattaforma quindi ha un guadagno passivo però si addossa anche una parte del rischio della piattaforma ovviamente abbiamo rischio e beneficio in prospettiva comunque di avere altri M-Assets e quindi un allargamento di questo ecosistema potrebbe essere veramente interessante in particolare per gli early adopters che utilizzeranno per primi la piattaforma e faranno un po' incetta di questi MTA tokens questo è quanto e ora vi chiedo qual è il vostro preferito? vi interessano questi progetti? pensate che investirete in qualcuno di essi? se sì perché li conoscevate già? insomma ditemi come sempre tutto quello che pensate nei commenti dubbi compresi ai quali io prontamente vi risponderò vi auguro una buona serata e alla prossima